E che cos'è Pasquetta? E che cos'è Pasquetta? Dal regista di colazioni a Penflemme Vedo che quando si tratta di mangiare siete tutti disponibili Sì sì, dico a te Garibaldi Voglio annunciarvi che abbiamo trovato la villa Possiamo organizzarci per Pasquetta Quando la Pasqua non era una Pasqua Orsu dunque, che carne ordiniamo? Ma che carne è carne? Io sono vegetarieno! Ma io sono vegano! E io sono fruttariano! Io sono crugista! Io sono vegetariano ma mangio pesce! Questa è l'ultima cena che vi organizzo Memo, non dire così Ma questi non mangiano un cavolo Ho sentito che gli altri si stanno organizzando per Pasquetta Lo so, l'ho letto su Facebook Con voi è impossibile decidere, basta! Vi metto a pane e vino! Oh, io sono astenio e pure celiaco! Quando il sopravvento prende i tupi Ma perché non provare l'hamburger di soia? La braccia è accesa! Ce li hai i soldi per la spesa? Ben tu spicci sta a fare giudeo! E questo è per gli amici a cui dono pane a lici Partiamo da casa mia! E invece agli amiconi Do pane e lampacioni Sacrifici Raccomandazioni Puntuali, mi raccomando! Menzogne Qualcuno ha fatto la cresta alla spesa E sei stato tu E tu, porta i palloni! Per me Quando tutto ebbe inizio Tazze e bicchieri alla salute dei cavalieri Prendi la strada al castello La seconda a destra si è arrivato! Bicchieri e tazze Nessuno ha invitato le ragazze La gente ricorderà questa Pasquetta Nei secoli e nei secoli! Amen! Nella speranza che non piova! L'ultima apericena